Tre atleti in gara per l'Abruzzo ed altrettante medaglie ai recenti campionati italiani di kickboxing che si sono svolti a Desio nella provincia di Monzebrianza agli inizi di maggio. A conquistare i titoli per la nostra regione è stata la Di Nino Team di Sulmona con la medaglia d'oro di Federica Presutti e il bronzo di Alessia Lombardi e Paolo Posillico. Il sindaco Peppino Ranalli ha voluto dare il giusto riconoscimento ricevendo l'intera squadra a Palazzo San Francesco. Il maestro Tonio Di Nino ha espresso tutta la sua soddisfazione per l'importante traguardo raggiunto. Ci siamo presentati a Desio con tre atleti a rappresentare l'Abruzzo. Questi tre atleti sono stati atleti di ottimo spessore perché hanno fatto valere tutto il loro bagaglio tecnico agonistico tant'è vero che su tre atleti tre medagli, tre podi con un titolo italiano. Le medaglie sono state conquistate nella specialità kick light. Federica Presutti ha avuto inoltre il merito di laurearsi campionessa italiana nella categoria cadetti vincendo ai punti su due round. La soddisfazione è anche per aver portato sul podio un altro atleta giovanissimo, Paolo Posillico, Juniores di 17 anni, mentre Alessia Lombardi è già veterana per aver vinto sia il titolo regionale che interregionale. L'auspicio del maestro Di Nino è quello di far raggiungere a questi ragazzi un livello sempre maggiore. Io mi auguro che possano arrivare a far parte della nazionale perché ci sono dei talenti. Il sindaco Ranalli ha omaggiato la Di Nino Team con la statuetta di Ovidio e una confezione di confetti. È una scuola che è nata dal nulla e sono anni che si evidenzia in tutto ciò che noi facciamo a livello agonistico, dalle regionali alle nazionali. Credo che non solo la scuola ma anche sul mona debba essere orgogliosa di questi ragazzi.